Non sai che disegnare le chi la tachipirina? E allora fiori color croco, clavate sul foglio, chiara tecnica impressionista Veramente forma molto libera, insomma i fiori sono quelli che sono È un disegno molto facile e un po' astratto per tutti quanti Puntina di nero mi raccomando, delicata, come me E poi facciamo i gambi con le foglioline, molto semplici Bruciamo anche i lati, non lo metto se no TikTok mi banna al culo E ciao!